Il caso dell'omicidio di Loretta Lovrini, confessato in diretta televisiva dal figlio Lorenzo Carbone, ha suscitato forti reazioni online, scatenando critiche contro la trasmissione Pomeriggio 5 e la conduttrice Mirta Merlino, accusati di sciacallaggio mediatico. Tuttavia Merlino ha prontamente risposto alle polemiche, difendendo il lavoro svolto dal suo team e sottolineando come la decisione di trasmettere la notizia sia stata eticamente corretta. In un'intervista rilasciata al messaggero, Merlino ha dichiarato, l'azienda mi ha dato ragione. Deontologicamente la notizia prevale sempre. L'abbiamo data con sobrietà e rigore. L'inviato di Pomeriggio 5, infatti, è stato testimone diretto dell'arresto di Carbone, dopo avergli chiesto, in un apparente stato confusionale, se fosse l'autore dell'omicidio. A quel punto, l'uomo ha confessato di aver ucciso la madre. Secondo quanto riportato dal giornalista, il loro intervento è stato immediato e discreto, ho chiesto cosa fosse successo e lui ha ammesso tutto. Poi abbiamo chiamato subito la polizia. Merlino ha inoltre ribadito che la trasmissione ha seguito le procedure corrette, evitando di intralciare le indagini e mostrando le immagini dell'arresto solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione delle forze dell'ordine. Non abbiamo rincorso l'assassino, abbiamo solo raccontato la verità, ha concluso.